Il Fiorone Domenico Tauro è stato il protagonista di una tre giorni ad alto contenuto gastronomico e culturale a Terlizzi dove il Galla Nuovo Fior d'Olivi in collaborazione con il Comune di Terlizzi e con altre realtà locali ha realizzato un vero e proprio percorso tecnico per la valorizzazione del Fiorone Nero. Il 5, 6 e 7 luglio presso il Chiostro delle Clarisse si sono tenuti simposi, convegni e cooking show per conoscere ancora più da vicino, valorizzare e soprattutto gustare un prodotto tipico locale autoctono. Non è la prima volta che il Galla Fior d'Olivi organizza una rassegna del genere proprio nella città dei fiori e in riferimento al gustoso frutto pugliese, come ci ha riferito Antonio Saracino, presidente Galla. Questa è un po' la decima edizione che quest'anno ha potuto finanziare il Galla grazie a un progetto di rete che attraverso un bando, un'azione di rete da parte di imprenditori locali con a capofila la cooperativa Agricoltura e Progresso hanno potuto un po' organizzare queste tre giorni di festa con la parte convegnistica e con la parte anche culinaria ma soprattutto con portatori di conoscenza di ciò che il prodotto rappresenta. Molte le attività correlate a questa iniziativa partendo dagli aspetti salutistici e delle proprietà del fico fiorone passando per la leggenda di Domenico Tauro che ebbe l'intuizione di far sposare il fiorone spagnolo della varietà Suar con una pregiata e delicata specie locale, ottenendo appunto il fiorone nero o rosso ma intervenendo anche su problematiche legate alla cultura del prodotto. Il tutto per avvicinare ancora di più la popolazione a conoscere questo pregiato frutto della nostra terra. Quello che manca attualmente è una valorizzazione del Domenico Tauro. Ci stiamo impegnando, abbiamo costituito anche un'associazione per avviare il procedimento per il riconoscimento dell'IGP dal Domenico Tauro. È importantissimo per qualsiasi comunità e quindi anche per Terlizzi lavorare sulle proprie eccellenze. Lo è per ragioni sociali, per ragioni economiche e anche per ragioni di attrattività. Ogni volta che si riesce a riconoscere la qualità di un prodotto agroalimentare e lo si riesce a condurre all'interno delle denominazioni di qualità che siano dopo IGP ci si porta dietro l'intero territorio a favore dei produttori, a favore dei loro sacrifici e soprattutto a beneficio dei consumatori che ogni volta che scelgono un prodotto per le sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche si portano in casa un pezzo di territorio. All'interno della rassegna una cena degustativa in piazza che ha visto la presenza di tantissime persone, un mini aperitivo a base di pecorino murgiano, capocollo di Martina Franca e vino verdeca della Valle d'Itria oltre che al fiorone ma anche un cooking show che si è tenuto domenica sera a 7 luglio dove lo chef Alessandro Saracino ha preparato davanti ai nostri occhi della pasta fresca ripiena di ricotta e fiorone con l'aggiunta di scaglie di mandorla e croccanti petali di salome. Abbiamo preparato dei ravioli ripieni di fiorone e mingotauro ad accompagnare una crema di ricotta e sopra ci mettiamo sia la parte croccante che è la mandorla, una mandorla fresca sfilettata sia la parte sapita che è la coppata essiccata. Per cui in pratica c'è un mix di sapori fra dolce e salato? Esatto, serve sempre un pizzico di sale anche nelle cose dolci. Se vi siete persi l'evento, peccato per voi, noi vi assicuriamo che lo abbiamo gustato fino alla fine.